Benvenuti in Ernest Borel. Ernest Borel è un marchio svizzero di orologi fondato nel 1856 a Neuchâtel. Da allora, l'azienda si è guadagnata una solida reputazione per la produzione di orologi eleganti e sofisticati, che uniscono l'artigianato svizzero e il design raffinato. La gamma di orologi da uomo e da donna di Ernest Borel è vasta, e comprende modelli automatici, a carica manuale e al quarzo. I modelli spaziano dai classici ai moderni, con caratteristiche come fasi lunari, calendari e tourbillon. Uno dei punti di forza degli orologi Ernest Borel è la qualità dei movimenti. La maggior parte degli orologi utilizza movimenti ETA o Sellita, noti per la loro affidabilità e precisione. Inoltre, molti modelli includono dettagli unici, come la firma Butterfly sul fondello dell'orologio, simbolo dell'amore e della felicità, che è diventato un'icona del marchio. Ernest Borel ha una lunga storia di collaborazione con il cinema. Negli anni 50 e 60, l'azienda era nota per la sua presenza in molti film cinesi e hongkonghesi, dove gli orologi Ernest Borel erano spesso indossati dagli attori principali. Questa collaborazione ha contribuito a rendere il marchio famoso in Asia, e ancora oggi, Ernest Borel è molto apprezzato dagli appassionati di orologi in tutto il mondo per la sua qualità, il design elegante e la raffinatezza. Se sei alla ricerca di un orologio che unisca qualità, artigianato svizzero e design raffinato, Ernest Borel è sicuramente un marchio da considerare. Grazie alla vasta gamma di modelli disponibili, puoi trovare l'orologio perfetto per te, che si tratti di un classico orologio da polso o di un modello più moderno e sofisticato con caratteristiche uniche come le fasi lunari.